Sia lodato Gesù Cristo, buongiorno carissimi amici, iniziamo questo nuovo giorno venerdì 25 ottobre con la preghiera cristiana e oggi ricordiamo il beato Carlo Gnocchi, sacerdote, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ricordando il grande apostolato del beato sacerdote Carlo Gnocchi, non possiamo non pensare a quante volte anche lui ha ripetuto queste sante parole della preghiera per eccellenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo i nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen. E chissà quante volte ha ripetuto anche la preghiera dell'Ave Maria in tutti i luoghi che ha visitato da sacerdote, al fronte, negli ospedali, nelle case di cura. Quante volte ha pregato magari anche a fianco di persone che stavano per respirare, per salire al cielo. Ha invocato anche lui la presenza di Maria in questo momento così delicato della vita. Ave Maria piena di grazia al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi pecatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Come spesso succede la parola di Dio ci aiuta a capire la vita dei santi. Prendiamo per esempio il Vangelo di oggi in cui Gesù sempre con un tono un po' aspro dice sapete valutare i segni dei tempi e questo tempo non lo sapete valutare. Certamente il Beato Carlo Gnocchi, sacerdote, sapeva valutare i segni dei tempi e difatti lui ecco essendo sacerdote e quindi avendo promesso di imitare Gesù in tutto soprattutto nella spogliazione, nell'occupare l'ultimo posto, ha adattato con grande elasticità ecco e spirito di obbedienza la sua missione sacerdotale alle circostanze storiche in cui è vissuto. È andato al fronte come cappellano militare e poi vedendo tanti mutilati di guerra, soprattutto tanti bambini, ha aperto un luogo dove potessero essere accolti, amati, cresciuti e vivere l'amore della famiglia che avevano perso. Quindi il Beato Carlo Gnocchi essendo pieno di Spirito Santo ha saputo invece valutare i segni dei tempi. Guardiamo la prima lettura dove si dice un solo corpo, un solo spirito, una sola speranza, quella della vostra vocazione, una sola fede, un solo Signore. Ecco queste persone, mutilatini penso soprattutto, che sarebbero stati soli, abbandonati, magari anche disperati. In Carlo Gnocchi hanno trovato invece un vero ministro di Dio che ha creato una realtà per loro, una casa dove potessero sperimentare l'amore familiare, l'amore della Santa Chiesa. E infine il Salmo che sembra veramente providenziale in ciò che dice, noi cerchiamo il tuo volto Signore e Carlo Gnocchi sappiamo ha fatto dono delle sue corne, rendendo così la vista a delle persone che non ce l'avevano. Immaginiamo la commozione di queste persone quando hanno recuperato la vista. Il Salmo dice, noi cerchiamo il tuo volto Signore. Certamente queste persone, ecco, hanno potuto poi fissare il loro sguardo nel volto dei fratelli, nel volto delle immagini sacre di un crocifisso, di una figura della Beata Vergine Maria, che hanno ricevuto tanto amore anche attraverso il loro sguardo rinnovato, sapendo che anche noi possiamo rinnovare il nostro sguardo attraverso il dono della penitenza, delle lacrime, della preghiera, dei sacrifici, l'imitazione proprio di Cristo e dei Suoi Santi, tra cui il Beato Carlo Gnocchi, per la quinta recessione invoco su di voi la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Per intercessione del Beato Carlo Gnocchi, sacerdote, vi benedica Dio Unipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.